ogni 24 secondi una nuova orbita per centrare la vittoria la domenica sera il cielo di rai sport 1 si illumina con le stelle del massimo campionato del basket italiano mercoledì alle 20 e 25 la diretta della partita pesaro cantù uno scontro fatto di tocchi rimbalzi corse e tanti canestri gli astri della palla a spicchi brillano su rai sport 1